buongiorno a tutti innanzitutto bene questo video apre una sezione nuova del canale dedicata all'energia e parlando di energia non possiamo non partire dall'idrogeno anche perché questa diatriba fra batterie elettriche auto a batteria o auto a idrogeno a questo punto sarà il caso di iniziare a concluderla dunque in questo video faremo una presentazione dettagliata dell'idrogeno e del suo potenziale come fonte di energia sostenibile durante l'intervento affronteremo le caratteristiche e le proprietà dell'idrogeno e i diversi metodi per ottenerlo e le sfide e le opportunità presentate dal suo utilizzo nel settore automobilistico ed energetico cercherò di avere un approccio equilibrato evidenzieremo i vantaggi e di limiti dell'idrogeno stesso rispetto ad altre fonti energetiche come possano essere le batterie per offrirvi una visione informata di un suo possibile utilizzo in futuro nella mobilità e nella sostenibilità energetica iniziamo evidenziando un errore ricorrente quello che relativamente alle auto all'automotive tutti fanno considerando l'indrogeno solo un carburante per altri scopi lo è ma nelle auto non sarebbe reditizio considerarlo un carburante altro errore è quello di considerare uguale per tutti gli usi la densità dell'idrogeno essendo un gas è comprimibile ora 20 anni fa per spiegarmi noi si comprimeva l'idrogeno a 270 atmosfere quindi aveva una certa densità e sembrava che l'idrogeno non fosse così renditizio ora si comprime a 700 atmosfere e quindi la densità è molto maggiore e anche la resa dell'idrogeno detto questo andiamo avanti l'idrogeno è la materia che più abbonda nell'universo non esiste niente che non abbia che non contenga una molecola di idrogeno se voi strusciate un piede su un tappeto l'energia statica prodotta da quel gesto della scarpa che struscia sul tappeto è già sufficiente a incendiare l'idrogeno quindi l'idrogeno brucia con facilità l'idrogeno si accende molto facilmente a causa dell'energia statica come dicevo adesso ha una notevole diffusibilità ed è capace di salire scomparire nell'atmosfera in frazioni di secondo non essendo ottenuto per distillazione atmosferica nonostante il suo potenziale energetico nella storia ha causato alcuni disastri come l'indeberg e il challenger ha però a causa di una gestione sbagliata del sistema dell'idrogeno è leggero reattivo e non si trova nell'atmosfera tutto il mondo scientifico riconosce che nel caso l'indeberg nell'incidente dell'indeberg una minima fuga di idrogeno dal dirigibile fu incendiata dall'energia statica presente nel intorno alla torre e perché c'era un corso un temporale e quindi era ancorato si stava ancora da una torre e lì ci fu questo questo problema il fenomeno si chiama fuoco di sant'elmo il challenger invece come tutte le astronavi brucia un misto di idrogeno e ossigeno e la gestione di questi due gas insieme può essere un problema l'idrogeno è un materiale da trattare con i guanti perché è capace di attraversare molti materiali come le guarnizioni le leghe e i compositi in ferro quindi bisogna usare materiali appositi e tecnologie apposite per lavorare con lui vale a dire per esempio la pistola che rifornisce le macchine non funziona con un sistema elettrico ma funziona con una fotocellula proprio per non avere scintille elettriche vicino all'idrogeno non si può ottenere per condensazione o per distillazione atmosferica per distillazione atmosferica si può ottenere il radon l'elio si può ottenere alcuni composti marmorei come si può ottenere un sacco di altri prodotti ma non l'idrogeno l'idrogeno che si usa attualmente nei processi industriali è l'idrogeno grigio prodotto dal metano questo è quello che più si addice a determinati tipi di procedimenti dopodiché c'è l'idrogeno bianco l'idrogeno bianco viene da depositi geologici in francia sono state scoperte grandi riserve di questo tipo di idrogeno naturale originato da processi ossidativi la sua estrazione però rappresenta sicuramente un ostacolo alla sostenibilità energetica inoltre i quantitativi per quanto grandi siano sono un'inerzia in confronto alle necessità di un pianeta che ha fame di energia l'idrogeno blu è davvero un grande prodotto però per farlo si produce co2 che si deve da qualche parte stoccare o usare per altri prodotti industriali per altri procedimenti quindi anche questo lo scartiamo il tipo di idrogeno che interessa a noi è quello verde l'idrogeno prodotto per elettrolisi dell'acqua l'idrogeno prodotto per elettrolisi dell'acqua utilizza elettricità prodotta da fonti rinnovabili come quella solare e quella eolica a livello industriale viene prodotto attraverso gli elettrolisi dove l'acqua viene iniettata fra due piastre con potenziali elettrici e membrane che separano l'idrogeno dall'ossigeno spesso rimettendo nell'aria l'ossigeno quindi ricapitando l'idrogeno è leggero ha un potenziale energetico altissimo ma non è concentrato e questo è l'unico difetto che troviamo fino a questo momento noi abbiamo trovato i quattro tipi di idrogeno ora l'idrogeno verde viene prodotto mediante elettrolisi dell'acqua convertendolo in idrogeno e ossigeno nonostante nonostante i pericoli comportati dalla presenza di ossigeno vicino all'idrogeno questo però è un passaggio essenziale l'idrogeno bianco non ci interessa stabilito qual è il procedimento per ottenere l'idrogeno adesso passiamo alla sua trasportabilità si può trasportare con un camion però i camion bruciano gasolio e questo è un controsenso ma l'idrogeno si può distribuire nella re nelle reti nazionali che attualmente trasportano il metano proprio perché possiamo comprimerlo a pressioni diverse possiamo dargli una compressione ottimale per le tubature e poi dopo un'altra pressione ottimale per i serbatoi ora i serbatoi hanno varie non sono in metalli sono in resine queste riescano a mantenere a reggere la pressione e a mantenersi leggeri ricordate che il primo il più grande e stupendo vantaggio dell'idrogeno è che è leggerissimo ha diversi vantaggi il processo di rifornimento di una macchina idrogeno richiede meno di tre minuti ma deve essere fatto refrigerato l'innovazione di questo in questo campo è necessaria per migliorare la logistica comprimere l'idrogeno comprimere l'idrogeno è una sfida perché viene si riscalda in compressione come si riscalda in espansione lo spazio nelle auto è limitato e rende lo stoccaggio per forza ad alta pressione perché altrimenti i serbatoi dovrebbero essere troppo grandi il collegamento dell'auto con la pompa dell'idrogeno è nato già da tanti anni si era provato a utilizzarlo i motori termici e la cosa funzionava ma la sua produzione era costosa come lo è adesso ricordiamo che l'idrogeno nei motori termici ha una combustione simile a quella del diesel non a quella della benzina il motore termico spreca molta energia convertendo soltanto il 30 per cento dell'energia dell'idrogeno in movimento la bmw creò la serie 7 idrogeno con un motore v 12 che utilizzava idrogeno liquido inefficio ma era inefficiente percorrendo soltanto 200 chilometri con 12 chili di idrogeno la compressione dell'idrogeno era come dicevo a 270 atmosfere quindi molto meno concentrato delle 700 di oggi e comunque l'utilizzo come combustibile era la forma meno efficiente la cella combustibile un veicolo dotato di propulsione elettrica a cella combustibile è composto da quattro elementi un motore un inverter una batteria e una cella combustibile il motore e l'inverter sono gli stessi delle auto elettriche a batterie è necessario disporre di una piccola batteria per mettere in moto la cella pila combustibile e per i momenti in cui si accelera o per i momenti in cui non c'è bisogno di tanta energia comunque tipo le macchine ibride a comunque una piccola batteria dunque il vantaggio della cella combustibile è il peso ma il vantaggio principale è che con questa maniera di trasportare l'energia l'unico scarto che produciamo è l'acqua la cella combustibile utilizza una membrana per separare l'ossigeno dall'idrogeno generando elettricità e rilasciando acqua come sottoprodotto la batteria è una piccola batteria questo l'abbiamo già detto i serbatoi dell'idrogeno l'idrogeno viene immagazzinato in serbatoi cilindrici ad alta pressione i serbatoi di grande dimensione rappresentano una sfida per i veicoli di piccola dimensione a causa dello spazio limitato per questo si aumenta la pressione per diminuire le dimensioni dei serbatoi i tipi di cella combustibile esistono tre tipi di celle a combustibile però le prime due sono pesanti e poco efficienti per il sistema dell'automotive a noi interessa la terza che è quella con la sigla p e m grazie alla sua efficienza e alla sua leggerezza e alla rapida accensione è elemento ideale per generare corrente per l'automotive la funzionalità della cella combustibile le celle di una pila combustibile vengano impilate cioè vengano sovrapposte una all'altra questa questa catena di membrane fino a raggiungere la tensione e l'amperaggio da noi richiesti i vantaggi della macchina idrogeno rispetto all'auto elettrica batteria tradizionale la leggerezza quindi un impianto idrogeno può equipaggiare anche un camion senza sottrargli capacità di carico una nave e perché no ma soprattutto un aereo la capacità di ricaricarsi in meno di tre minuti una macchina batterie non potrà mai farlo oltretutto dovete comprendere che le batterie più devono essere performanti e più saranno care da comprare l'idrogeno più si va avanti e più abbasserà il suo prezzo e di questo parliamo ora il vero e unico problema dell'idrogeno è il prezzo attualmente stiamo incrementando sistemi rinnovabili proprio perché ci permettano di arrivare a produrre tanta energia e potremo usarla per produrre idrogeno perché mi dite dire dire voi dico questo perché una cosa è trasportare l'energia con impianti di rame da una parte all'altra di un paese una cosa è distribuire trasportare l'idrogeno in tubature parlo come costi di trasporto di logistica e come perdita di energia nel trasporto è conveniente anche sotto questo aspetto i materiali compositi di cui è fatto l'idrogeno non contengano ferro proprio perché l'idrogeno può penetrare il metallo i serbatoi sono più leggeri facilmente manovrabili Toyota ha creato una macchina dove ci sono tre serbatoi e si cambiano addirittura si va dal benzinaio si lasciano i tre vuoti si piglia i tre piani si infilano nei buchini dietro che hanno fatto comunque il discorso sostanziale è questo dobbiamo arrivare alla capacità di produrre energia rinnovabile tale che ci permetta di abbassare il costo dell'idrogeno perché adesso il costo dell'idrogeno è fissato in 9,999 dollari al chilo noi dobbiamo scendere a 0,999 dollari al chilo quando grazie all'energia rinnovabile l'idrogeno avrà questo prezzo sarà conveniente al punto che potrà equipaggiare qualsiasi mezzo penso alle grandi navi dove lo spazio per immagazzinare idrogeno c'è purché non influisca nel peso e ricordatevi una cosa questo non molti di voi lo sanno le navi non viaggiano il motore a gasolio che hanno non muove l'elica il motore a gasolio genera energia elettrica e i motori elettrici muovono l'elica quindi la pila combustibile si sostituirebbe perfettamente al motore a gasolio l'unico problema che ci può creare un veicolo a idrogeno è quello di scaricare acqua in terra sì se dietro di me c'è una moto che arriva a alta velocità io scarico l'acqua può darsi che scivoli questo è l'unico pericolo che posso creare però per il resto l'idrogeno è la batteria del futuro non ci devono essere contrasti fra sostenitori delle auto elettriche a batteria e delle auto elettriche a idrogeno semplicemente perché in pochi anni andrà a sostituire la batteria si trasformerà esso stesso nella vera batteria del futuro con buona pace del signor musk che per ora vi vende molte batterie ma che è perfettamente cosciente del fatto che quando sarà il momento potrà levare con facilità le batterie dalle sue macchine e metterci la fila combustibile in effetti sarà un guadagno tremendo in termini di peso del veicolo e quindi potrà anche ridurre il kilowattaggio dei suoi motori bisogna comprendere che siamo in un periodo di transizione ora mi direte voi ma perché ci vendano le macchine a batterie vendano le macchine a batterie per varie ragioni primo perché non hanno un'esperienza nel settore delle auto elettriche e in qualche modo se la devono fare secondo perché il prezzo dell'idrogeno è ancora proibitivo ma la tecnologia è già tutta sviluppata non ci sono problemi sotto il profilo tecnologico noi potremo fare il cambio domani il problema è soltanto il prezzo e ricordiamoci che l'idrogeno è contiguo è l'evoluzione della batteria che vedete oggi diventerà la batteria del futuro questo non solo relativamente alle automobili o ai mezzi di trasporto ma anche rispetto a un sacco di altre cose perché non è detto che noi dobbiamo bruciare l'idrogeno per riscaldare una casa noi possiamo benissimo tramutarlo in energia e alimentiamo la casa in tutto c'è un mio collega di pisa che vende su internet le caldaie a idrogeno che producano acqua calda e producano anche tre chilote e mezzo di energia elettrica perché perché sono pile combustibili è semplice no ora il problema per lui la diffusione anche per lui è che ci sono pochi sistemi vendano l'idrogeno e quei pochi sono carissimi ma un domani che questo sistema avrà un costo accettabile dovete immaginarvi che il semplice levare la distribuzione elettrica ma distribuire solo l'idrogeno è un vantaggio immenso le case diventerebbero autonome possiamo costruire una casa in cima alla montagna e portare le bombole di idrogeno abbiamo energia per tutto quello che vogliamo riscaldiamo elettrico che è praticissimo sicurissimo ed efficientissimo perché perché grazie a questo tipo di tecnologia si potrà fare così come si potrà far volare gli aerei e si smetterà di inquinare in tutti gli altri campi perché oggi come oggi noi pensiamo all'idrogeno come a un carburante invece dobbiamo cominciare a capire che l'idrogeno è un veicolo per l'energia cioè è un'altra faccia dell'energia elettrica detto questo io vi lascio al prossimo video e voglio rispondere a una domanda che alcuni di voi mi hanno fatto io lo so che qui come set per fare i video non è perfetto lo so benissimo il fatto è che questo non è un set per fare i video questa è la mia scrivania alla quale io ho imposto all'attrezzatura per fare i video e però io da qui ci lavoro non è che io ho questa stanza e questa roba per fare i video io la uso per lavorare il video sono solo una delle cose che faccio e quindi logicamente all'aspetto che ha detto questo io vi saluto ci vediamo alla prossima volta spero che vi sia piaciuto questo video da parte mia è sempre un piacere farlo